Chiaramente siamo un po' sotto stress, anche perché non siamo assolutamente abituati a tutta questa tensione mediatica che si è sviluppata nei nostri confronti, anche perché ha dato luogo ad alcuni fraintendimenti, nel senso che mia moglie non è che ha detto che è colpa di Salvini, ha detto semplicemente che quello che è successo è il riflesso di un clima di olio, e io credo che anche le dichiarazioni e gli atti legislativi di questo governo contribuiscono a determinare. Sono assolutamente d'accordo, chiaro. Il civico era inventato Salvini e per l'amor di Dio ci mancherebbe. Io volevo solo chiederle se percepite un clima ostile, chiamola così. No, assolutamente, mai ho avuto problemi con nessuno, mai ho avuto a che dire con nessuno, tutti gli ambienti che Bacchi ha frequentato è sempre stato accolto molto bene, anche perché è un ragazzo che sa farsi voler bene, insomma. Certo, certo. Mi viene in mente il fatto, lei ha detto, lui ha ottenuto un permesso per protezione umanitaria, che sono quelli che sono stati fondamentalmente cancellati. Esatto, con il decreto sicurezza. Con il decreto sicurezza, diciamo, altri bacari non avrebbero la possibilità di rimanere, anche se temporaneamente sul territorio. Le faccio un esempio, quando è scaduto il permesso, ne abbiamo fatto la regolare domanda di rimuovo, ma tra decreto minimi all'epoca e della sicurezza oggi è praticamente impossibile ottenerlo. La cosa importante da dire è che, insomma, diciamo, certe prese di posizione e certe decisioni della politica rischiano di diventare terreno fertile per episodi come quelli che sono capitati a voi. Nel senso che, allora, è un determinato modo di affrontare queste situazioni, che parla unicamente all'emotività più spinta, anche alla paura e anche alle difficoltà delle persone. Pone un problema, ma non pone le basi per poterlo risolvere, no? Certo, certo, certo. È quello che ci preoccupa, insomma, anche perché è facile dire prima di italiani, no? Prima di italiani, però, secondo me, se tu vuoi lavorare veramente per prima di italiani, vai nei quartieri disagiati, cerca di non tagliare i servizi. A me sembra che la stampa, l'informazione dovrebbe, più che concentrarsi sui casi come questi, magari documentare tutte le esperienze belle e positive che ci sono in giro per l'Italia, che forse sono anche più interessanti della nostra, no? Perché dovrebbe fare una sorta di controinformazione rispetto a quello che viene diffuso a livelli molto alti, sia su cifre, sia su delinquenza. La descrizione di un'emergenza che in realtà non è proprio tale. Voi avete dato, date tanto a Bacari, lui cosa ha dato a voi? Cosa dà a voi? Bacari è fantastico, cioè è disarmante da un certo punto di vista perché ha un'aria un po' fanciullesca, ma in realtà ha un vissuto da adulto e da adulto che di cose, di cose mia viste. Però quello che a me lascia sempre sorpreso è la sua capacità di fidarsi, proprio, no? Dobbiamo avere pregiudizi. Grazie a tutti.